I milanesi potranno assistere alla beatificazione del loro arcivescovo Giovanni Battista Montini, divenuto Papa con il nome di Paolo VI, nel salotto della città alla Galleria Vittorio Emanuele II, grazie ad una grande iniziativa mediatica voluta dall'Arcidiocesi di Milano, il Comune di Milano, il Centro Televisivo Vaticano, in collaborazione con Officina della Comunicazione e Sony. Domenica 19 ottobre la messa in Piazza San Pietro a Roma, con la quale Papa Francesco proclamerà Beato Paolo VI, sarà trasmessa in diretta su un grande schermo di 6 metri x 4 in tecnologia Ultra HD, detta anche 4K, uno standard televisivo ancora in gran parte sperimentale, che consente una definizione quattro volte superiore rispetto all'HD conosciuto fino ad oggi. Per la sua capacità da arcivescovo di dialogare con la Milano laica, la beatificazione di Papa Montini non è solo un evento liturgico ma civico, ha ricordato alla presentazione dell'evento Monsignor Mario Del Pini, vicario generale della Diocesi di Milano, e avviene in galleria proprio per incontrare la città. Paolo VI, figlio di un giornalista di Brescia, ebbe molta attenzione ai media come strumento di perevangelizzare, ha sottolineato il direttore del Centro Televisivo Vaticano, Monsignor Dario Edoardo Viganò. Per questo è giusto che si meriti proprio lui una beatificazione in altissima definizione, una tecnologia sperimentale che consente anche di conservare meglio documenti audiovisivi. Vogliamo restituire ai milanesi le stesse emozioni che si vivranno dal vivo Roma, ha assicurato Stefan Labrus, country head di Sony Europe Italia. Le immagini saranno talmente naturali da dare la sensazione di aver aperto una finestra su Piazza San Pietro.